benvenuti a ok il prezzo è giù signor Gino due adulti due bambini con meno di 4 anni più auto da Livorno a Golfo Aranci con le navi gialle di Sardinia Ferris da Gino! Gino! 38 euro? esatto tasse incluse con Sardinia Ferris ok il prezzo è giù tariffa non rimborsabile valida fino al 7-11-2010 soggetta a condizioni jackpot e disponibilità posti su sardiniaferris.com e nelle agenzie per le tue vacanze usa la testa